Amici di Youtube, bentrovati da Marco Liguori, bentrovati sul secondo canale di Marco Liguori purtroppo in questo video a segnalare due terribili scosse di terremoto accadute ieri sera intorno alle 11 di sera purtroppo ad essere colpita maggiormente è stata l'Aquila ancora una volta e questo ovviamente ci addolora tantissimo sappiamo quello che è successo negli scorsi anni nel capoluogo abruzzese apprendiamo che due scosse di terremoto in breve sequenza sono state registrate in provincia dell'Aquilo la prima di magnitudo 3.7 e la seconda di magnitudo pari a 3.4 la scossa è stata registrata alle 22.58 e l'epicento è stato individuato nel comune di Barete Amici di Youtube ci dispiace tantissimo soprattutto tenendo in considerazione quello che ha passato l'Aquila il secondo canale di Marco Liguori si stringe intorno all'Aquila e i suoi abitanti io vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che su questo canale ogni sera alle 8.30 realizziamo una trasmissione in streaming vi ringrazio per l'attenzione vi auguro buon proseguimento su Youtube